Ciao a tutti ragazzi, sono GastsBuster. Benvenuti in un nuovo episodio delle avventure in survival. Stavo scavando per cercare i diamanti ma non ho trovato niente, in come penso ho trovato veramente tanti oggetti preziosi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci si vede sopra. Rieccoci qua. 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 Riecco. Riecco qua. Beh come avete visto ho sistemato gli oggetti nella mia cesta E ho messo nella fornace del ferro grezzo a cuocere Si sente già un profumino LOL . . . . . . . Grazie a tutti. 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 Fire, fire, full fire, full fire, full fire. Full fire, full fire, full fire, fire. One single heart Full of fire One single heart Fire One single heart One single heart One single heart Full of fire 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 One single heart Fire One single heart One single heart One single heart Full of fire One single heart One single heart One single heart Full of fire One single heart 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 no 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 Direi che a questo punto, il campo di grano è ultimato. Grazie per la visione! 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 I mod ci battono contro, muoiono e al centro ci sono i drop! Ovvio che funzionerà pochissime volte, ma era una cosa veloce. E' un po' di sabbia. Vi dico che per questo video è tutto. Se vi è piaciuto il video o come sono scandalosamente caduto nel buco, mettete mi piace. E se naturalmente non l'avete ancora fatto, iscrivetevi. Ciao a tutti alla prossima.